Da non credere! Cosa? Oggi puoi pagare la polizza auto a rate mensili. E a costo zero! Sì, a costo zero! E io sono il mago Silvan! Con UniPolSai Assicurazioni paghi la polizza auto a rate mensili senza costi aggiuntivi. Chiedi un preventivo gratuito su polizatassozero.it o in agenzia. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo. Un caffè? Un caffè?